Sto partecipando a questo bando qua a Villa Umbra organizzato e gestito dal SEU Servizio Europa e si tratta di un progetto europeo finanziato con fondi europei, come detto gestito qua dal Servizio Europa il progetto si chiama Giustus Lipsius e si occupa di mobilità e di formazione lavoro per giovani avvocati e giuristi o comunque laureati in giurisprudenza lo scopo fondamentale è quello di permettere di fare esperienze di mobilità all'estero a categorie quali appunto quella dei giovani avvocati e avvocati laureati in giurisprudenza e permettere quindi di cimentarsi, di affrontare materie e tematiche che diversamente sarebbe stato molto difficile nella nostra Umbria poter affrontare ovvero quelle delle politiche europee, quali quelle dell'antitrust, delle politiche della concorrenza in generale e degli aiuti di Stato delle imprese che vengono affrontate appunto in uno studio legale europeo ospitante per quello che riguarda la mia esperienza personale io sono in partenza ecco a breve andrò a Bruxelles in uno studio legale dove appunto mi occuperò di queste tematiche e potrò quindi avere questa opportunità di cimentarmi con materie nuove che finora ho visto soltanto diciamo studiando l'esperienza avrà una durata di tre mesi dove appunto soggiornerò in Bruxelles e sarò a tutti gli effetti poi sostanzialmente integrato all'interno dell'organico di questo studio legale e parteciperò a tutte le attività dello studio legale stesso che mi verranno appunto sottoposte, tutte le attività di ricerca, attività di udienza e tutto quanto appunto di competenza dello studio e delle attività dello studio e degli avvocati dei partner residenti in Bruxelles